La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna al rinforzo dei rispettivi organici poliziotti provenienti da altre sedi che vandano variegate esperienze operative. Si tratta di sei agendi in ingresso alla Questura di Enna, tre agendi assegnati al distaccamento Polizia Stradale di Catena Nuova ed un agende alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica Polizia Postale delle Comunicazioni.